Buongiorno a tutte e tutti. Lo scopo di questo video è spiegare come si possono risolvere circuiti in corrente continua mediante l'uso di questo telegram bot che si chiama SpicePieBot. Simuleremo due circuiti. Un primo è questo di esempio che abbiamo già visto anche nel video di spiegazione della netlist e anche nel video in cui abbiamo simulato circuiti mediante il progetto SpicePie. Questo circuito è molto semplice perché il focus non deve essere sulla difficoltà di risoluzione del circuito ma sull'interpretazione dei risultati che questo strumento è in grado di fornire. Il secondo circuito sarà un circuito nuovo di cui non creeremo una soluzione analitica di riferimento ma andremo sostanzialmente a vedere qualche funzione in più che ci mette a disposizione il bot. In questo video farò accesso a telegram mediante l'applicazione nativa installata sul computer e non mediante smartphone. Lo vedete qui a sinistra e ci sono ancora le simulazioni fatte nel video precedente. Per cui partiamo con l'esempio 1. Vi ripeto questo è lo stesso esercizio che abbiamo svolto nel video in cui abbiamo utilizzato SpicePie, quindi buona parte delle nozioni saranno ripetute. Abbiamo un generatore di corrente in parallelo a tre resistori. I tre resistori sono di pari valore e di conseguenza la corrente totale imposta da questo generatore di corrente si va a ripartire in ugual misura in ogni resistore. La corrente vale 9 A e di conseguenza IR1 IR2 IR3 varranno 9 diviso 3 quindi 3 A come riportato qui. Ai capi di questi tre resistori possiamo calcolare adesso che abbiamo nota la corrente la tensione come prodotto R per I. Prendendo un qualunque resistore il prodotto R per I ci darà questa tensione perché questa tensione è ai capi di tutti i resistori e non solo anche del generatore di corrente. Per cui qui con un semplice calcolo possiamo valutare in 15 volt la tensione ai capi di tutti i componenti di questo circuito. Benissimo, andiamo a quindi risolvere questo stesso circuito mediante lo strumento, diciamo il bot di Telegram. Dobbiamo scrivere la netlist e quindi osserviamo che questo circuito è composto da due nodi, un nodo inferiore e un nodo superiore. Questi due nodi li andiamo a nominare, diamo un'etichetta, sappiamo che un nodo deve per forza essere chiamato nodo 0 e l'altro nodo lo possiamo chiamare ad esempio nodo A e adesso dobbiamo andare a scrivere la netlist. Quindi vado a scrivere la netlist di questo circuito. Partiamo dal generatore di corrente. Il generatore di corrente nella netlist si identifica con il nome I e con il numero 1, come vediamo qua. Dobbiamo scegliere ora il nodo N più e il nodo N meno. Sappiamo che tutti questi elementi saranno analizzati in convenzione degli utilizzatori e sappiamo quindi che in convenzione degli utilizzatori la corrente entra nel nodo convenzionalmente positivo della tensione. Quindi dobbiamo scegliere questo nodo come N più e questo nodo come N meno per avere una corrente che fluisce da N più passando attraverso il componente e arrivando ad N meno. Quindi questa è proprio la corrente che stiamo imponendo e concorde con questo verso. Abbiamo quindi capito che N più deve essere il nodo 0, che N meno deve essere il nodo A. Il valore sono 9 A. Adesso abbiamo i tre resistori su cui abbiamo libera scelta per quanto riguarda N più ed N meno. Ad esempio possiamo dire che la resistenza R1 è connessa tra il nodo A e il nodo 0 ed ha un valore di 5 Ohm. Quindi questo è N più e questo è N meno. Questo più non è venuto benissimo. Poi abbiamo la resistenza R2 che possiamo connettere tra A e 0 esattamente come la resistenza R1. Quindi questo è il nostro N più e questo è il nostro N meno. E poi abbiamo la resistenza R3 tanto per rinforzare il concetto che la scelta di questi nodi è del tutto arbitraria. Qui possiamo posizionare al contrario 0 e A di valore 5. Questo significa aver scelto da questa parte N più in basso ed N meno in alto. Dopodiché siccome vogliamo tensione e corrente su tutti questi componenti utilizziamo la direttiva spice.op. E questa è la nostra netlist. Ok? Dobbiamo andare a scrivere questa netlist, a comunicare questa netlist al nostro strumento, quindi al nostro telegram bot, per poter avere la soluzione. Come facciamo? Nel video in cui abbiamo fatto il setup di questo strumento abbiamo scritto la netlist direttamente nella chat. Qui noi l'abbiamo scritta diciamo come se l'avessimo scritta su un foglio di carta, quindi ora non possiamo fare copia e incolla. Dovremmo ricopiarla qua dentro. Questa è una delle possibilità. Vi voglio far vedere oggi che esiste un'ulteriore possibilità. Ad esempio, se andiamo a prendere un file di testo, noi possiamo scrivere quella mail in un file di testo. Adesso io mi posiziono qua sul desktop, visto che è vuoto e vado a sostanzialmente creare un file sul mio desktop. Quindi creo un nuovo file. Questo file lo chiamo esempio1.txt. Apro questo file con un qualunque editor di testo. Su Windows potrebbe essere blocco note. Io qui sono su ambiente Linux e ho un editor di testo differente, ma è pur sempre un editor di testo. A questo punto io posso andare qui dentro a ricopiare la netlist che vedo lì sotto. Quindi vado a scrivere che il primo componente è I1 connesso tra 0 ed A di valore 9A. Poi avrò una resistenza R1 connesso tra A e 0 di valore 5A. Una resistenza R2 sempre connessa tra A e 0 di valore 5A. Poi la resistenza R3 che volutamente abbiamo connesso tra 0 ed A per verificare il fatto che questa scelta sia arbitraria. Abbiamo salvato il nostro file e possiamo chiudere il nostro editor di testo. Adesso abbiamo questo file qua. Come facciamo ad utilizzare il file direttamente? Niente di più semplice. Lo trasciniamo direttamente nella chat Telegram, la quale ci chiede se possiamo spedire il file. Lo spediamo e il bot vi dice intanto cosa c'era dentro questo file. E così possiamo verificare di aver mandato al bot la soluzione corretta. E poi vi fornisce la soluzione. Soluzione che adesso vado a copiare facendo uno screenshot nel mio sistema di scrittura in modo tale che poi la possiamo commentare. Eccoci qua. Ho copiato i risultati e possiamo osservare che per quanto riguarda il resistore R1 noi otteniamo 15V e 3A con un prodotto 15x3 che fa 45W. Insomma di fatto riscontriamo esattamente gli stessi risultati che avevamo ottenuto analiticamente perché questa è la tensione che noi stiamo attribuendo al resistore R1 perché qui sopra abbiamo scelto N+, e qui sotto abbiamo scelto R-, e questa è la corrente che stiamo attribuendo al resistore R1. Come vedete sono esattamente una tensione e una corrente identiche in termini di polarità e direzione a quelle che abbiamo calcolato qua sopra. Lo stesso vale per quanto riguarda il resistore R2. Infatti anche qua abbiamo una tensione che è questa e una corrente che è questa. Qualcosa invece cambia per il resistore R3, quindi queste sono le cose più interessanti da interpretare visto che qui abbiamo fatto una scelta differente, N+, l'abbiamo messa sotto. Ed essendo questo componente come tutti gli altri vincolato ad essere studiato in convenzione degli utilizzatori, la corrente è questa, va dal basso verso l'alto. Se vogliamo dare dei nomi a queste grandezze, questa è quella che il bot chiama V di R3 e questa è la corrente che il bot chiama I di R3. Ora è chiaro, guardando quello che abbiamo scritto qua sopra, che la nostra tensione V di R3 è uguale e opposta a come abbiamo definito la tensione V. Va da sé che se la tensione V è pari a 15 volt, questa è pari a meno 15 volt. La stessa cosa si può dire per la corrente I di R3. Questa corrente va dal basso verso l'alto, ma la corrente che abbiamo calcolato qua sopra andava dall'alto verso il basso, quindi sono uguali e opposte. La corrente I di R3 è uguale e opposta alla corrente che prima abbiamo chiamato I R3. Quindi questo vale meno 3 A. Stiamo sostanzialmente dicendo la stessa cosa con due convenzioni differenti. E quindi i risultati del bot sono pienamente coerenti con risultati analitici, visto che il bot ha utilizzato una convenzione di studio differente. Per quanto riguarda invece la convenzione sulla potenza, quella è la stessa. Anche in questo caso la convenzione è la convenzione degli utilizzatori. Quindi quella che il bot ci indica come potenza associata alla resistenza R3 è una potenza assorbita e di fatto viene positiva, come normale che sia per un resistore, visto che è un componente passivo, perché questo meno per meno di fatto diventa una quantità positiva. Quindi abbiamo tre resistori che, come ci dice il bot, assorbono 45, 45 e 45 Watt, in totale 135. Significa che questo generatore dovrà erogare 135 Watt. Vediamo se il bot ci permette di concludere questo. Il bot ci dice che la tensione sul nostro generatore di corrente è pari a meno 15 Volt. Ricordiamoci che abbiamo fatto in modo che la corrente associata al generatore di corrente sia positiva dal basso verso l'alto. Questo scegliendo N più ed N meno in questo modo e di conseguenza questa è la tensione che stiamo utilizzando per il nostro generatore di corrente. Questa è la tensione V di I1. Chiaramente la tensione V di I1 è definita esattamente come la tensione sul resistore R3 ed è uguale ed opposta alla tensione V. Quindi questa è uguale a meno V. Quindi uguale a meno 15 Volt. La corrente, una corrente che abbiamo imposto noi ed è pari a 9 Volt, il prodotto di meno 15 per 9 dà chiaramente un risultato negativo di meno 135 Watt. È una potenza che noi dobbiamo immaginare entrante in questo componente perché la convenzione di studio è convenzione degli utilizzatori. Ma una potenza entrante, che poi significa una potenza assorbita di valore negativo, è sinonimo di potenza erogata. Quindi ecco che andiamo a concludere esattamente quello che ci aspettavamo. Il nostro generatore di corrente sta erogando 135 Watt o, parlando la stessa lingua del bot, sta assorbendo meno 135 Watt. Qui non ho riportato le cose ovvie, ovvero che VDR1 e VDR2 sono uguali e sono uguali a V, insomma le abbiamo solo commentate a voce. Sono andato a commentare, scrivendo in modo esplicito, tutti quei risultati che potevano destare un pochettino più di sospetto per chi è alle prime armi. Ok, direi che questo conclude la prima parte del video. Nella seconda parte mi sposto verso un secondo esempio dove abbiamo un circuito dove non facciamo i conti analitici a priori. Proviamo semplicemente a risolvere questo circuito al fine di calcolare la tensione VAB. Dedichiamoci quindi subito a capire come è fatto questo circuito e a come poter scrivere la netlist. In questo circuito direi che possiamo osservare sicuramente il nodo A. Prendo l'evidenziatore. Eccolo qua. Questo è il nodo A. Poi abbiamo questo che è il nodo B. Tra l'altro l'esercizio ci chiede proprio di calcolare la differenza di potenziale tra A e B. Ricordiamoci che la differenza di potenziale VAB è proprio quella che sceglie A come convenzionalmente positivo e B come convenzionalmente negativo e quindi è la differenza di potenziale tra il nodo A e il nodo B. Così definita con questa frecciolina. Non sono chiaramente gli unici due nodi. Abbiamo anche un nodo qua sotto e poi abbiamo, prendo un altro colore, magari lo faccio in rosso, questo nodo qua sopra. Quindi abbiamo quattro nodi. Uno di questi nodi lo dobbiamo denominare come nodo di riferimento, quindi nodo 0. Supponiamo questo qua sotto. Dopodiché abbiamo il nodo A e il nodo B ed eventualmente qua possiamo chiamare questo nodo C. Direi che siamo pronti per andare a scrivere la nostra nettrist. Vengo qui e vado a scrivere la nettrist. Parto dal componente generatore di tensione, uno. Qui diciamo è semplice andare a scegliere quello che sarà il nostro nodo più e quello che sarà al nostro nodo meno. Diciamo che la polarità del generatore di tensione ci aiuta in questa scelta perché noi dobbiamo proprio stabilire uno studio di questo componente in modo tale che v1 corrisponda alla differenza di potenziale tra questo nodo di sopra e questo nodo di sotto. E quindi è naturale scegliere C come il nodo N+, e 0 come il nodo N-. Il valore lo vedete qua sotto e questo valore è pari a 10 volt. Adesso dobbiamo andare ad elencare R1, R2, R3 ed R4. Ancora una volta per le resistenze non dobbiamo porre particolare attenzione a quella che... cioè non c'è un particolare vincolo sulla scelta ma neanche una particolare comodità. Quindi direi che la resistenza R1 è connessa tra C ed A. Il valore della resistenza R1 è pari a 2 Ohm. La resistenza R2 che troviamo qua è connessa tra C e B. Quindi vado a mettere C e B. Il valore della resistenza R2 è pari a 3 Ohm. La resistenza R3 che vediamo qua sotto è connessa tra A e 0. il valore è pari a 8 Ohm. E infine la resistenza R4 connessa tra B e 0 di valore 3 Ohm. Quindi vado a mettere B, 0, valore 3 Ohm. Punto OP per avere il punto di lavoro. E questa è la nostra netlist. Come abbiamo fatto in precedenza andiamo a scrivere la nostra netlist. Quindi quello che io faccio è copiare questo file. Lo chiamo esempio 2. Lo apro. Dentro ci ritroviamo già la netlist che abbiamo scritto in precedenza che adesso chiaramente andrò a cancellare. Quindi vado a fare così e cancello tutto. V1 connesso tra C e 0, valore 10 Volt. R1 connesso tra C ed A, valore 2 Ohm. R2 connesso tra C e B, valore 3 Ohm. R3 connesso tra A e 0, valore 8 Ohm. R4 connesso tra B e 0, valore 3 Ohm. Punto OP. Salvo e simulo. Come faccio a simulare? Beh, giusto per dare entrambe le procedure nello stesso video ho scritto questa netlist nel file magari per archiviarla. Visto che ho il file aperto posso selezionare tutto, copiare. Dopodiché vengo qua, slash netlist. Devo avvisarlo che gli sto mandando la netlist. Copio la netlist e ottengo questo risultato. Posso adesso tentare di commentare questi risultati e soprattutto di utilizzarli per poter andare a calcolare la tensione VAB. Allora, io vedo che la tensione VAB si può calcolare ad esempio facendo una legge di Kirchhoff delle tensioni che concatena VAB la resistenza R1 e la resistenza R2. Adesso, che ho tutta la soluzione di rete, conosco sia la tensione su R1 che la tensione su R2. Devo solo fare attenzione alla notazione che ho utilizzato per andare a rappresentare correttamente queste due tensioni. Perché per R1 ho scelto N più C e N meno A. Quindi vuol dire che questa è la tensione che mi sta fornendo il bot. Questa è la tensione V R1. Questa, visto che ho menzionato in netlist R2 tra C e B, è la tensione VDR2. Pertanto ora posso andare a considerare una maglia fatta in questo modo che mi permette di scrivere una legge di Kirchhoff delle tensioni che partendo dal punto di B vede la tensione VAB concorde con il verso di percorrenza. La tensione V R1 concorde con il verso di percorrenza e la tensione V R2 discorde rispetto al verso di percorrenza. Quindi sostanzialmente noi possiamo calcolarci la tensione VAB come UDR2 meno VDR1. Il valore numerico, se noi andiamo a osservare che VDR2 vale 5V e VDR1 come vediamo dal bot vale 2V e pari a 3V perché qui abbiamo 5 meno 2V. Il bot quindi ci ha dato tutta la soluzione di rete e mediante questa soluzione abbiamo calcolato una grandezza che non ci forniva direttamente il bot. Esiste un modo alternativo per calcolare questa tensione? Direi di sì perché in realtà la tensione è definita come una differenza di potenziale e il bot è in grado di fornirci in soluzione il potenziale a tutti questi nodi. Bisogna andare qui, andare a cercare questo comando che si chiama slash nodal pot che abilita o disabilita in output il potenziale ai nodi. Se noi lo clicchiamo, lui ci dice che adesso il potenziale ai nodi è incluso nei risultati. Dobbiamo semplicemente risimulare la rete. Pertanto io vado adesso a prendere esempio 2, vado a trascinarlo qui, lo spedisco al mio bot e otteniamo lo stesso identico risultato di prima ma questa volta con il potenziale ai nodi. Questo V di A è il potenziale al nodo A, questo V di B è il potenziale al nodo B, questo V di C è il potenziale al nodo C. Adesso direi che copio questi risultati nel programma dove sto scrivendo in modo tale che li posso commentare meglio e li posso anche lasciare nel pdf di cui metterò il link nella descrizione del video. Eccoci qua, ho copiato i risultati. Beh intanto, visto che adesso ce li abbiamo qua, per completare il tutto posso essere più chiaro dicendo che questo valore l'abbiamo preso da qui. Il secondo approccio di cui vi stavo parlando è quello di definire la tensione VAB come il potenziale al nodo A, io lo definisco qui come U di B, talvolta il potenziale si identifica con la lettera U. Qui nel bot viene utilizzata sempre la lettera V perché queste sono le cosiddette tensioni nodali, vale a dire la differenza di potenziale tra il nodo e il nodo di riferimento. Ok? Comunque, diciamo, per capirci, quello che io qua chiamo U di A e U di B sono VA e VB. Adesso metterò le freccioline. Vale a dire che questo potenziale è pari a 8 volt, questo potenziale è pari a 5 volt, quindi qui dobbiamo fare un 8 meno 5 e otteniamo di nuovo 3 volt. Adesso, come vi dicevo, per essere più chiari, questo valore l'ho preso di qua e il valore qui l'ho preso di qua. Ok? Quindi diciamo che esiste possibilità, mediante il bot, di avere in output anche i potenziali nodali e talvolta è comodo perché magari ci hanno chiesto di calcolare una tensione tra due punti in cui non c'è un componente e quindi noi non abbiamo immediatamente questa grandezza in output, ma la possiamo calcolare in questo modo. Ok, questo conclude il video. Tirando le somme abbiamo visto come simulare mediante il bot, abbiamo visto come dare la corretta interpretazione. la cosa più importante da ricordare è che tutti i componenti sono analizzati in convenzione degli utilizzatori, come viene ricordato qui ad ogni output, viene utilizzato il termine inglese passive sign convention, quindi sempre ricordarsi che ogni componente è analizzato in convenzione degli utilizzatori e di conseguenza bisogna sempre interpretare correttamente i risultati per fare dei confronti con eventuali soluzioni analitiche in cui non è stata usata la stessa convenzione rispetto al bot. Ok, questo è tutto.